Quando da una tragedia terribile può nascere il bene, quando il sorriso speciale di una ragazza di 19 anni, travolta e uccisa da un'autopirata, rivive sul volto di tanti giovani come lei e li spinge a fare qualcosa di grande e importante per ricordarla. Tommaso, Guido, Alessio, Nicolas, Luca hanno aperto una nuova via sulla montagna di casa, il Resegone, uno sperone di roccia alto 40 metri nella zona della Cornasella, quattro volte in quattro anni diversi, aggiungendo ogni volta un pezzetto fino alla cima e alla dedica finale. Torre Chiara, il muro verticale, la salita, l'arrivo, la conquista. Abbiamo deciso di concludere questa avventura dedicando questa piccola torre a chi ora non c'è più, ma che ci ha toccato il cuore, Chiara Papini, scrivono su Facebook. Chiara dalla risata contagiosa, morta in una calda serata di maggio, travolta sulle strisce pedonali, mentre tornava a casa, dopo alcune ore trascorse con gli amici, uscita per la prima volta proprio quella sera dopo mesi di lockdown. È trascorso un anno e mezzo dalla morte di Chiara Papini, a soli 19 anni. Lecco non dimentica, chi ha avuto la fortuna di conoscerla non la scorderà mai. Sento un affetto intorno a me che cresce di giorno in giorno, dice mamma Maria Frigerio. Il 29 ottobre Chiara avrebbe compiuto 21 anni. Gli amici hanno organizzato una festa di compleanno, mi hanno invitata, erano tantissimi, mi hanno scritto una lettera di 18 pagine. Qualcuno ha composto anche una canzone per lei. E poi c'è l'intitolazione della nuova via tra le guglie all'ombra del resegone. Spero di poter andare presto a vederla. In nome di Chiara, mamma Maria, papà Gianfranco e il fratello Fabio stanno aiutando quattro fratellini orfani di Addis Abeba. Perché uno dei sogni di Chiara era quello di vivere un'esperienza missionaria in Africa, conclude Maria. Abbiamo ancora tante cose da fare. Mi piacerebbe per esempio organizzare un evento canoro per i ragazzi. Sono quelli che in questi due anni hanno sofferto di più.